Ma bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Eric Gamer e benvenuti con la serie di Clash Royale Oggi andremo avanti con la nostra scalata alle arene Iniziamo con l'aprire i bauli perchè va bene Andiamo a studiare ancora cosa e niente, giustamente che fanno schifo Il mio clan è questo, il Bosco Heroes Siamo a sbloccare i baule E niente, posso fare il mio deck se volete copiarlo E niente, andiamo subito in battaglia Iniziamo un bel bocicagliolo E gli spiriti del fuoco Oddio Qua va Kiria, buona mossa Un colpo? No, non ce la fa Non ce li fa, 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 non ce li fa Egli fendiamo egregiamente E' la terreno 2 in questa partita Una bella Fireball Capisce anche la torre, no? Ecco, distruggiamo tutto Qua ci mette Un bello stregone, noi andiamo avanti Con i boscaioli, distruggiamo tutto Guardate un po' di danni Ah, la mia scarica dovresti distruggermi C'è una bella principessa Tronco per lui Bella mossa Siamo in vantaggio per ora Anche se minimo Quindi Vuoi fare la mia combo barba di scelti E Spiriti del fuoco, io ci provo, eh Mettere a scuola entra la Valkyria No, nessuno stregone Eh, la messa lo sapevo Ci scommettevo Niente, l'attacco bruciato Scaglione difesa E dai, ripartiamo Sì Sì Difficile ragazzi Molto difficile Questa partita Molto difficile Manca un minuto Potremmo adesso Per di attaccare subito Una bella Vai, eh Vai, attaccate i miei frodi Vai, eh Vai, attaccate i miei frodi Buon scaglione di pesa Questa parte E andiamo Una bella fireball Prendendo un po' il tutto Prendendo un po' il tutto La torre 502 ragazzi Prova che abbiamo diventato tanto le torri da quella parte Noi ci proviamo Alchiria giustamente Attenzione ragazzi Attenzione No, niente Se non c'è il boscaiolo con la parte Niente Eh, ragazzi Ficcio qua, eh Probabilmente la perderemo Se ho perso ragazzi Cacchio All'ultimo Eh, avrei dai Ci rifaremo La prossima Tutti a sperare Spero Eh, qua rischiamo anche Facciamo la seconda partita E ultima partita Velo 9 Eh, se mi vedono Ma mi sfasciano comunque alla fine Quindi lo cerca di mio, eh Sotto questo ambito Lo scaiolo subito E anche spiriti No, basta E la Tornado La Tornado Vedi che merda La Tornado La pescetta in difesa E mi è un po' rotta la minchia, no? Perché Vei scelti Dai, grandi Grandi Di stimo, dai Grandi Ti pulisco il tutto Grandi, raga Tanto danno abbiamo fatto Metto gli sgrepe, non prendo eventuali danni Vado con lo scaiolo Anche si Basta Anche si Purtroppo non gli struggo, eh Vado con lo scaiolo Vado i scelti Direi Eh Eh ragazzi Eh Ah la Fireball non ci voleva è dura dura e dura questo molto dura e pure picchia 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 il campo si difende bene poco da fare in questi casi la firewall nooo che stiga ragazzi allora impariamo ci sono un po' messi male qua nooo nooo ragazzi nooo ai nooo ragazzi non penso anche questo ragazzi purtroppo siamo a rischio di retrosessioni in area 8 niente vi saluto e bella prossima grazie a tutti